prendi una carta una anche tu io mi giro fatela vedere in camera e l'importante è che ve la ricordate anche voi è fondamentale vediamo perfetto allora la carta metterla qui la carta metterla qui e ricordate questo è fondamentale la cosa importante da fare utilizzare questo questo assistente in legno come vedete qui sotto praticamente a una altra faremo è prendere il mazzo di carte e andare a mettere nella vaschetta inferiore ok adesso io andrò a prendere delle carte da sotto e le sposto in sopra da sotto e le metto sopra e vado avanti per un po da sotto e le metto sopra quando volete mettere stop va bene vi farò vedere con la carta quindi io vengo le carte da sotto e la metto sopra da sotto e la sposto sopra si? sei sicuro? che carta hai scelto? ho scelto due di fiori due di fiori e continuiamo io vengo una carta da sotto e la sposto nella tasca di sopra da sotto ne metto un'altra e la sposto nella tasca di sopra via dicendo la tasca sotto ne sposto una nella tasca di sopra stop! su questa carta? si! che carta hai scelto? regina di quadri la regina di quadri infatti è la regina di quadri ammiglia di quadri infatti! Grazie a tutti.